Buongiorno ragazze, oggi vi canterò una canzone inedita, le parole le ho scritte io, la musica è di una canzone di Arisa, però vi voglio dedicare queste parole dal profondo del mio cuore, ascoltatele bene. Ragazze vi penso e mi mancate tanto, mi manca la scuola ed il vostro sorriso, le vostre battute e le nostre lezioni di coro, ora che sono lontana e ci vediamo online, vi scrivo un canto per raccontarvi che a volte ho voglia di riabbracciarvi tutte. Non è razionale, non lo puoi spiegare, solo l'empatia ce lo fa provare, chiudi gli occhi e ascolta solo con il cuore, anche quando è buio, anche quando è buio. Meravigliose alunne mie, meravigliose come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro i vostri nomi. Meravigliose alunne mie, bisogna quasi stare e un giorno capiremo che la vita è un dono prezioso. Meravigliose alunne mie, bisogna quasi stare e un giorno capiremo che la vita è un dono prezioso. Non è razionale, non lo puoi spiegare, solo l'empatia ce lo fa provare, chiudi gli occhi e ascolta solo con il cuore, anche quando è buio. Meravigliose alunne mie, meravigliose come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro i vostri nomi. Meravigliose alunne mie, bisogna quasi stare e un giorno capiremo che la vita è un dono prezioso. Meravigliose alunne mie, bisogna quasi stare e un giorno capiremo che la vita è un dono prezioso. A presto ragazze, un abbraccio, ciao! Ciao!